Pressione in graduale calo sul Mediterraneo centrale per via dell'avvicinamento di una saccatura atlantica che tenderà ad isolarsi sulla Sardegna. Mercoledì 10 aprile in Toscana tempo variabile con rovesci sparsi possibili anche sulla costa. Venti deboli moderati occidentali, mari trammossi e localmente molto mossi, temperature in calo soprattutto le massime con valori in linea con le medie della prima decade di aprile. Sulla nostra provincia cielo nuvoloso variabile, piogge più probabili in Garfagnana. A Lucca temperatura minima 12, massima 17 gradi. A Castelnuovo minima 11, massima 16 gradi. A Viareggio minima 13, massima 16 gradi. Grazie a tutti!